Il progetto Modena Città del Bel Canto ha il sostegno di Fondazione di Modena, Comune di Modena, Fondazione Teatro Comunale e Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli, che nel novembre del 2016 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. Un impegno a chiare lettere, dunque, per i principali istituti pubblici e privati della città, impegnati nello sviluppo e nel rafforzamento dell'identità e dell'offerta culturale e sociale della comunità. Un impegno a chiare lettere, dunque, per i principali è un impegno di Fondazione di Modena, un impegno a chiare lettere, dunque, per i principali è un impegno di Fondazione di Modena,